Le nuove sfide della mobilità urbana ad Ecomob Expo City di Pescara, un'occasione di confronto e condivisione tra esperienze di comuni capoluogo d'Abruzzo. È un modo per confrontarsi ma anche per prendere spunti perché c'è sempre qualcosa da imparare e quindi non c'è nulla di male, non c'è rivalità, non c'è campanilismo, anzi c'è uno spirito di collaborazione molto positivo perché l'obiettivo è quello di fare il bene delle nostre comunità. E allora se c'è un'idea che in un'altra città funziona e può essere importata anche nella città capoluogo vicina, questo è un aspetto positivo. Quest'idea di fare rete, di fare squadra forse in passato non è stata perseguita adeguatamente, invece oggi l'unione fa la forza e il nostro Abruzzo è una regione splendida, dobbiamo essere coesi e le questioni che riguardano le comunità spesso sono simili e comuni e quindi dobbiamo anche fare scelte che possano essere condivise. Tra le esperienze quella di L'Aquila con l'assessore Mannetti che ha fatto il punto su scelte strategiche che privilegiano qualità della vita e mobilità a basso impatto ambientale. Noi ci siamo subito adoperati per adottare gli strumenti di pianificazione così come ha fatto anche il Comune di Pescara che ha organizzato questa bellissima manifestazione, quindi il piano urbano di mobilità sostenibile, il bici plan, il piano del traffico del trasporto pubblico locale. Dopodiché però abbiamo iniziato ad attuare una serie di misure sulla mobilità sostenibile concentrandoci prevalentemente sulla mobilità elettrica, già dal 2017 perché abbiamo ritenuto che tutto il discorso legato alla transizione ecologica, al raggiungimento degli obiettivi di Chioto, con la mobilità elettrica poteva sicuramente farci raggiungere dei risultati importanti. Quindi mobilità elettrica però anche isola pedonale, zone 30, insomma tutte quelle misure che sono previste dai documenti nazionali ed europei e che noi abbiamo recepito nei nostri strumenti.